Musica 8 minuti Vediamo come sono Ok Mi sa che mi manca altra legna nera La volevo fare a scacchi il tetto La volevo fare a scacchi Ah madonna Fare a scacchi però Non so se Non so se ce la fo Ok forse ho un'idea Grazie a tutti Ok ho appena finito la casa ho tagliato il video perché Sono vedendo un video di 4 ore e mezzo Eccolo qua Ecco questa è insomma la casa Tutti i vetri Ho messo un po' di vetri Qui ora bisogna andare in caverna Per prendere l'acqua E il ferro per poi fare il secchio Per poi andare a prendere l'acqua Poi il ferro servirà anche per farsi le armature e tutti gli utensili Intanto andiamo a cercare la caverna Poi ci andremo nel prossimo episodio No Ok Andiamo a trovare la caverna Non ci allontaniamo troppo perché sennò facciamo una brutta fine Oh ok No mi sa che la caverna Toccherà scavarmela da me Mi sa proprio di sì No 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 Mi tocca scavarmela da me la caverna Eh Stai anche avendo notte Ok io adesso Comincerei a scavare Io la caverna la farei qui Proprio dentro casa Così Stum Stum Olè così Aspettate un secondo Abbasso il volume dell'atmosfera Oh Ok l'ho abbassato Adesso Incominciamo a scavare Non si vede nulla Non si vede nulla C'è solo una torce Beh intanto cominciamo a scavare Poi Appena si arriva a un certo punto Vi lascio Che ci ritroveremo nel prossimo video Dove avrò le torce E possiamo andare a scavare Questo video sarà il più curto di sicuro Ma Vabbè ragazzi Non ho tempo di registrare Io Aspettate il prossimo episodio E niente Ciao ciao